che di fila degli altri che non si fida degli altri grazie tante salve a tutti ragazzi qui su senacob benvenuti ad una nuova parte di pokemon nero la scorsa parte avevamo affrontato bell con il sun shorn che ci aveva causato un sacco di problemi e oggi ci accendiamo ad attraversare il percorso 6 allora ragazzi off camera ho fatto grazie alla calmanella se mi ricordo che si chiama così sono riuscito a fare il nostro tipo volante vubat in svubat aspetta vubat in svubat quindi partiamo nel mondo tu sei molto interessante un esperimento quale esperimento dirli angia c'è ora il nostro sbubat vesa x ragazzi dirli e un pokemon di tipo erba 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 normale che cambia che cambia che cambia aspetto nelle stagioni questo è tipo questo è tipo no no almeno cattura non mi interessa è un dioso cosa ovviamente si trova anche in questo percorso è statene certe che ci e faranno ci stalkeranno tutti assieme a tranquille carablast si intende tu no ok ma che strano non pensavo di trovare centinaio centinaio di dirling e te non ti affidati dove sono che sono i ranger grazie a me tigre squadra che sarà composta soltanto da due molga due stramaledetti e molga no no ma che c'è crediate non faranno parte della nostra squadra provvisoria e vi chiedete perché e vi chiedete come e visto che hai già baldor ma cosa pensate che lo fa ma cosa pensa beh il motivo per cui ho accolturato o baldor non è perché me lo voglio tenere in squadra dirling e perché te devo scambiarlo per un emulga e non non con amici noi amici ma dentro il gioco dove sarà possibile scambiarlo nella prossima città che sbubate più veloce ah la bacca lieggia serve curare la paralisi ma dove sono le superfazioni alcoli tu pic pic chiade le piuze po po canil toni palca che belle ma non ma tope pan pole contro il nostro survive Adesso ci scommettete che il prossimo timepall lo compi e scommette salta a mezz'aria? Lo sapevo E' l'ultimo timepall E' la vita Ho risolvuto la scientifica dei tuoi pokémon In che senso scientificamente? Non so come questo scienziato mi mette paura Volo 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 Dobbiamo fare un appuntamento a lui o Manu? Alfonso adesso per essere inconsciente sentito anzi no sarebbe meglio dare neanche una anche a baldor qui ragazzi mi potete dare in dono un dirling per non so cosa cavolo o vi daranno in cambio ma basta che sia un dirling questi scienziati mi fanno paura non so voi io lo spero che erano tutti dirling sgumata 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 Tu, giro con l'acqua e siamo a power, non giocai anche tu, vediamo i tuoi pokemon Vani light Vabbè ragazzi, non sono certo così scemo da mandare un servain contro un vani light Soak Non mi ricordo se è di tipo acciaio o di tipo ghiaccio O cristal colpo E 40 ladroni Ma che vuol dire? Uffare? Ma che vuol dire? 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 Perché lo diminisco che vuol dire? FUNK! Adesso chi non mi... Chi non mi dice che... Sto tizio... Un altro amicino anche di hurling No, è molga... Ok ragazzi, concludendo con il video, commentate, iscrivetevi e mettete un piaccio. E qui da adesso è ancora tutto, a domani, ciao!